C'è l'intesa tra il Comune dell'Aquila e la Procura Generale per l'accesso alle banche dati. Questa mattina il sindaco Pierluigi Biondi e il procuratore generale dell'Aquila Pietro Menini alla presenza della dirigente con delle che a servizi demografici Paola Giuliani hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che consentirà ad alcuni funzionari indicati di accedere liberamente alla banca dati demografica del Comune dell'Aquila nonché, considerata la particolare situazione della città, alla banca dati per l'emergenza per tutti i servizi che si svolgono nell'ambito giudiziario. Con la dovuta salvaguardia della privacy dei cittadini e delle procedure, ha detto il sindaco, le procure del distretto potranno avere accesso alla banca dati acquisendo direttamente i dati sensibili evitando così l'iter farraginoso seguito fino ad oggi. Si tratta di una procedura che va nel senso della semplificazione. La collaborazione tra enti diversi, è stato detto, nasce dalla condivisione di obiettivi nel nostro territorio e dalle difficoltà di far fronte a richieste aspettative crescenti dell'utenza con risorse limitate. Scambiare informazione e condividere strumenti di lavoro in questo senso può garantire maggiore efficacia ed efficienza nell'erogazione delle informazioni. Un passo verso l'efficientamento e la digitalizzazione, ha detto Menini, verso il miglioramento dei servizi al cittadino. Un piccolo mattone, certo, ma siamo convinti, determinerà una risposta di giustizia più cedere per tutti. Già da domani, dunque, i funzionali potranno accedere alla banca dati anagrafica con una password che permetterà loro di pornessere qualsiasi attività utile ad acquisire tutte le informazioni necessarie.